I referendum separatisti in Ucraina orientale e le tensioni tra Occidente e Russia spingono a rialzo l'oro. Lunedì il prezzo del più classico tra i beni rifugio è salito fino a toccare quasi 1300 dollari l'oncia, sostenuto anche dalla debolezza del dollaro. Gli analisti ad ogni modo non prevedono nuove impennate, a meno che Stati Uniti ed Unione Europea non decidano di imprimere un'accelerata alle sanzioni economiche. Lo stallo con Mosca ha contribuito a far riemergere il metallo prezioso dai minimi sui quali si era posizionato ad aprile, affiancato in questo dal progressivo taglio degli stimoli economici da parte della Federal Reserve statunitense.